salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale oggi ragazzi come potete ben vedere siamo qua su e america stavo dicendo euro track american track simulator per una nuovissima puntata è già un po che non porto american track ma visti gli ultimi aggiornamenti non sono riuscito a fare a meno di portare questo video perché perché quei bravi signori della scs software hanno rilasciato un aggiornamento con questo bellissimo nuovo camion precisamente si chiama western star 49x è un nuovo camion uscito nella realtà da pochissimo quindi la western star ha fatto da pochissimo uscire questo nuovissimo camion e a quanto pare quelli della scs software hanno preso la palla al balzo e ce l'hanno sbattuto dentro partendo dai dati tecnici di questo camion allora lo possiamo trovare innanzitutto in la prima e più vicina diciamo concessionaria dove lo potrete trovare a stockton in california ed è l'unica perché per il momento io ho trovato purtroppo non ho altre mappe vedete che ho pochissime mappe ancora perché appunto io american track lo uso molto poco però è l'unica per il momento che ho trovato quindi vi consiglio di andare in california a stockton e lì sicuramente troverete la concessionaria visitando il concessionario vi faccio vedere cosa possiamo trovare sono solo due i modelli che per ora sono previsti da dall'aggiornamento abbiamo questo qua che è il western star 49x day cab e questo che è sempre il western star 49x day cab sono tutte due uguali semplicemente che questo è un po' meno modificato rispetto a questo questo qualcosa in più nel serbatoio ad esempio nel motore credo perché questo è un 600 cavalli questo è un 370 insomma cambia sinceramente pochissimo perché poi le configurazioni sono tutte uguali vi faccio vedere ovviamente le configurazioni abbiamo una sola cabina per quanto riguarda invece i telai abbiamo quattro varianti abbiamo il telaio short 2 6x2 da 150 galloni 6x4 150 6x2 200 e 6x4 200 galloni per quanto riguarda invece i motori partiamo da un minimo di 370 per salire a un massimo di 605 cavalli che non è affatto male aggiungerei per quanto riguarda invece i cambi abbiamo le trasmissioni scusate abbiamo una due tre quattro cinque sei sette trasmissioni che parte dalla più piccola che ha sei rapporti alla più alta che mi sembra abbia 18 esatto 18 rapporti credo siano quelle di base originali anche perché io che io ricordi mod non ne ho comunque se non dovesse essere così smentitemi pure ecco qua abbiamo gli interni molto belli devo dire veramente curati nei dettagli guardate qui il gancettino qui abbiamo la lucetta i sedili di pelle credo sia questa guardate qua qua ovviamente le regolazioni per alzare abbassare eccetera la ventola per il condizionatore ovviamente qui le varie spie freno di stazionamento qui abbiamo ovviamente il display del navigatore luci insomma questo è il volante vabbè questi dettagli così in legno scuro veramente hanno un bellissimo effetto su questa cabina qui abbiamo le colorazioni colorazioni sono molteplici abbiamo questa qua che credo sia l'ufficial paint quindi credo sia quella ufficiale poi abbiamo varie tipologie di pitture qui di verniciature non so se fanno parte tutte di questo pacco oppure no comunque queste sono le vernici una cosa è stata aggiornata questa cosa molto più carina adesso devo dire è molto più comprensibile rispetto a prima comunque queste sono le varie skin diciamo chiamiamole così per quanto riguarda invece le configurazioni diciamo del camion abbiamo vabbè le trombe che abbiamo queste qui che sono diciamo quelle con il logo poi sennò abbiamo quelle classiche del gioco base poi abbiamo la possibilità di mettere lampeggianti sopra o sotto poi abbiamo vabbè le luci quelle di posizione che possiamo posizionare in questa zona qua poi abbiamo parasole vari tipi di parasole oppure solo le luci di posizione sopra senza parasole qui vabbè le targhe qui abbiamo la possibilità di mettere gli specchietti da verniciato a cromato a verniciato e cromato qui abbiamo la griglia con exclusive o standard exclusive devo dire che è molto carina qui non ho capito perché c'è solamente il faro con scritto standard va bene qui abbiamo il paraurti in stile forestare oppure standard oppure vabbè quello sempre standard ma non tagliato e qui vabbè le bandierine questo è il parafango cromato standard devo dire che standard è molto bello le maniglie vabbè se si possono verniciare questo dettaglio il il serbatoio se lo vogliamo in alluminio o cromato insomma un bel po di configurazioni queste sono le marmitte anche basse ci sono che non si vedono proprio a stile europeo poi qui abbiamo le ventoline vabbè questi sono tutti i piccoli dettagli qui abbiamo il parafango posteriore in varie varianti da cromato a verniciato a nero insomma queste sono le varianti parafango posteriore bianco o nero e non abbiamo direi altro non abbiamo altro abbiamo solamente ancora lo specchiettino qui laterale che si può mettere verniciato cromato e va bene per quanto riguarda invece gli interni abbiamo solamente la modifica del volante che però questi non fanno parte del pack del western per il resto non abbiamo assolutamente nient'altro si la possibilità di mettere un piccolo logo appeso ecco non abbiamo altro raga questo è tutto quello che c'è da vedere per quanto riguarda la configurazione del camion per quanto riguarda invece le prestazioni e la bellezza in gioco beh questo ragazzi è veramente un camion stupendo guardate quanto è bello adesso lo accendiamo insieme perché io ancora devo capire e sapere perché non lo ho ancora provato raga sentiamo un attimino in audio come sta messo ovviamente accendiamo ma devo dire che mi sembra leggermente buggato o è proprio il rumore che è così cioè non capisco sinceramente proviamo un attimino a utilizzarlo ovviamente ragazzi sto usando il volante g920 ha copiato il suo bel cambiettino così almeno siamo tranquilli vediamo la configurazione luci per quanto riguarda le luci insomma luci ovviamente a lampeggia abbaglianti scusate e i lampeggianti devo dire tutto sommato non è un brutto camioncino dai è bello più che altro io so che questa tipologia di camion viene usata prettamente per il fuoristrada più che per diciamo la strada ecco una cosa che vorrei fare però è fare una prova su strada da 0 a non so facciamo 100 vediamo sì che siamo in miglia orarie però credo di aver messo chilometri orarie no vabbè siamo da 0 a facciamo da 0 a 80 miglia orarie dovrebbero essere circa 100 km orari ok raga facciamo una prova da di qui facciamo una prova e un test e vedere un pochettino quanto quanto ci vuole ovviamente dobbiamo mettere un piccolo cronometrino ok raga 3 2 1 e via partiti vediamo un pochettino quanto riusciamo a fare in sovraimpressione ovviamente vi metterò il cronometro così vediamo un pochettino quanto tira questo bel camioncino vediamo un pochettino 50 60 vediamo un po arriviamo circa 80 vediamo quanto 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 fa il nostro bel amichetto 77 80 28 secondi e 35 centesimi non male tutto sommato è anche abbastanza velocino vediamo invece quanto e come si comporta in velocità massima vediamo un pochettino quali sono le prestazioni di questo bel camion ok diciamo che più o meno è 98 miglia orarie che ora come ora non so quanto corrisponda in km orari ve lo lascio in sovraimpressione tutto sommato devo dire che è anche abbastanza veloce non tra i più veloci quello sì però è abbastanza veloce cosa dite proviamo a fare un'offerta di lavoro molto veloce direi facciamo un lavoro autonomo partiamo da hokdale che siamo ora come ora qui un lavoro abbastanza vicino bakersfield per forza 46.000 libbre benissimo andiamo a prenderci il nostro bellissimo mo dobbiamo tornare indietro mo dobbiamo tornare indietro e no se dobbiamo tornare indietro io faccio una cosa un po' illegale ma torno indietro di qua raga non ho voglia di farmi tutta la strada all'inverso benissimo comunque questo qua è il quadro strumenti raga lì sotto ci sono le marce la velocità è con il contachilometri analogico va bene dai tutto sommato mi sembra proprio veramente un bel camioncino bene andiamoci a prendere questo bel carico così almeno vediamo un pochettino testiamo anche la forza sì che sono 600 cavalli perché anzi 605 perché ho messo la versione 605 cavalli però voglio vedere anche giustamente come come va se tira se non tira ecco purtroppo raga vi avrei voluto mettere la webcam ma ho la fotocamera con la batteria a terra quindi non ho potuto mettervela prendiamo il rimorchio o devo andare tutto di qua o sentite i rumori dell'asfalto anzi della ghiaina sotto le ruote fantastico ok rimorchio collegato ci aspettano quasi quattro ore di viaggio ma ovviamente non demordiamo adesso valutiamo e testiamo un pochettino anche le prestazioni devo dire che si fa sentire il feedback della pesantezza del del rimorchio si fa sentire è molto cosa molto buona molto buona ora qua occhio mamma mia me lo sono visto in faccia raga me lo sono visto in faccia mamma mia iniziamo male qua è una vita che non torno su american track non mi ricordo neanche più come si gioca raga non mi ricordo i tasti non mi ricordo niente bellissima sta cisterna è comunque molto molto bella veramente qui la polizia occhio eccola qua ho trovato la tromba raga bel suono bel suono veramente un po la un po la un po la ok raga riproviamo vediamo se adesso riusciamo a dare un pochettino un pochettino meglio vediamo un po quanto siamo andati lontani è quattro ore vabbè ci siamo allungati leggermente il viaggio ma devo dire che comunque a pieno carico se la cava molto bene circa 72 73 anzi stiamo addirittura aumentando 74 75 bene 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 siamo a pieno carico è a pieno carico devo dire che però la stabilità un pochettino lascia desiderare lascia un pochettino a desiderare non capisco se è la lunghezza della cisterna che ci diciamo un pochettino rovina la stabilità o se siamo noi proprio questo ancora non lo non l'ho ben capito comunque va bene o dobbiamo girare adesso cerchiamo di non fare di no la stessa fine di prima rallenta 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 piano o si era alzata la ruota davanti si era alzata la ruota davanti ora ci faranno passare disgrazieto non mi fai passare togliti dai togliti ma cos'è sto rumore sento un suono di motocarro cos'è sto motocarro che cammina è la petta di farming probabilmente ma dietro abbiamo una macchina non capisco cos'è a non si sente più boh non lo so magari era qualche moto falciatrice che falciava qualche vigna probabilmente siamo belli spediti in diciottesima marcia a circa 80 miglia orarie su questa bellissima autostrada o meglio super strada non saprei neanche definirla ci mancano due ore e venti minuti di viaggio è stato un viaggio velocissimo ragà non mi sono neanche accorto di essermi messo in viaggio perché è veramente molto spedito molto scattante come come camion molto più di tutti gli altri ovviamente in stile americano è di sicuro questo proprio sembra uno di quei camion stile europeo si europeo si sarà forse per il muso molto più corto e piatto perché non ha magari la cabina quindi molto più leggero ma veramente ha di quelle prestazioni allucinanti nulla a che vedere né col Kenworth né col Peterbilt e tanto meno né col Mac proprio questo è un mondo a sé questo western star è veramente un mondo a sé e come vi ho detto all'inizio video questo western star in America è appena stato prodotto è appena uscito sul mercato questo 49X che dovete sapere una piccola curiosità che è stato il camion più testato come crash test di tutti i camion della western star ha subito di quelle cose che non avete idea credo che in giro sul web ci sia qualche crash test di questo camion ma nelle condizioni più estreme che ci potessero essere le hanno ricreate e hanno fatto il test su questo camion e li ha passati tutti quindi credo sia non dico camion dell'anno ma comunque un camion molto molto buono mamma mia oh non frenava raga devo dire che la frenata è un pochettino diciamo lentuccia eh però va bene non può essere completamente perfetto quindi va più che bene adesso qua ci passiamo sì che bella sta stradina raga bellissima guardate io mi fermo un secondino vorrei fare una prova di accelerazione 050 vi metto sempre il cronometro qua a pieno carico perché voglio vedere come si comporta voglio proprio vedere come si comporta questo bellissimo western star allora fatemi preparare un attimino il nostro bel cronometro e 3 2 1 partiti partiti partenza un pochettino lenta molto lenta direi vediamo un pochettino quanto fa da 0 a 50 perché il limite è 55 quindi facciamo una cosa realistica anche stiamo sotto i 50 vediamo un attimino 28 30 dai arriva 30 mamma mia 35 37 39 siamo a 40 miglia orarie 41 42 43 44 e dai su però sì che c'è stata una leggera curva quindi 48 49 50 prima della discesa ce l'abbiamo fatta raga 47 e 98 non ho altri camion da testare cioè nel senso non ho testato mai nessun altro camion quindi non saprei dirvi se effettivamente è un buon tempo a me pare di sì sinceramente non mi sembra un cattivo tempo certo che bisognerebbe testarlo con camion da 600 cavalli con un peso similare dietro e vedere come si comporta ecco potremmo farla magari una sfida del genere fatemi sapere raga su american track però lo facciamo perché i camion sono molto più pesanti fatemi sapere cosa ne pensate magari possiamo farci una una piccola sfida tra tutte tra tutte le marche qual è la marca più prestante più veloce insomma facciamo parcheggio dove vuoi vai vai te lo parcheggio dove ti pare cavolo un parcheggio un po più difficile non è adesso ci metterò 16 anni a parcheggiare ok raga che figo ce l'ho fatta scancia scancia sgancia non so neanche più parlare raga ottimo lavoro tempo piegato 7 ore insomma kilobiti 212 miglia gasolio 52,3 galdoni e ci siamo portati a casa i nostri 9000 dollari bene io spero ragazzi che questo test mod più o meno vi sia piaciuto questa recensione ecco non mi viene la parola questa recensione fatemi sapere tramite commentino cosa ne pensate di quella sfida che vi ho detto poco fa ovviamente vi ricordo di lasciare un bel like per il mio parcheggio mi raccomando lasciate un bel like per il mio parcheggio io ragazzi vi saluto e vi mando e vi rinnovo l'appuntamento ai prossimi video un grosso saluto e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti